Se non ti rispetta, non fa per te. Seduta aperta del Consiglio regionale contro la violenza sulle donne. L'elischi sarà limitato a pochi comuni montani. Transfrontalieri, 8 milioni di ristorni fiscali dalla Svizzera. Nuova edizione di Consiglio News. In primo piano il contrasto alla violenza sulle donne, una piega sociale a cui l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha dedicato una seduta d'aula aperta. Una seduta aperta del Consiglio regionale alla presenza del sottosegretario del Ministero dell'Interno, dei questori delle province piemontesi, dei garanti regionali dei detenuti e per l'infanzia e l'adolescenza, dei principali rappresentanti dell'associazionismo e dei sindacati per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'Assemblea legislativa piemontese ha voluto dedicare al tema non solo un momento celebrativo per le troppe vittime di femminicidio e di abusi sessuali, fisici e psicologici, ma anche un'occasione di riflessione su quelle che sono le cause che fanno nascere la violenza di genere, soprattutto in ambito domestico. Dal 1 gennaio al 7 novembre 2021 sono state 103 le donne vittime di omicidio, di cui 87 uccise in ambito familiare o affettivo. Combattere la violenza contro le donne è un dovere civile e etico a cui le istituzioni devono rispondere. La violenza di genere resta ancora un fenomeno per più sommerso e la sensibilizzazione sul tema risulta essere necessaria per garantire il suo riconoscimento tempestivo e per questo è importante tenere alta l'attenzione e continuare a fare informazione. Giornate come queste sono fondamentali perché è nostro compito sensibilizzare davvero rispetto a un tema importante, delicato, purtroppo i numeri non sono particolarmente incoraggianti. In Italia il 31,5% delle donne in qualche modo ha subito una forma di violenza, che sia fisica, sessuale, psicologica. Noi dobbiamo mettere in atto dei percorsi educativi che vadano ad educare i giovani al rispetto, alle relazioni positive, paritarie e rispettose. Bisogna intervenire sia in termini di repressione ma anche in termini di prevenzione e soprattutto poi una volta che si è verificato il problema bisogna accogliere questa persona, bisogna proteggerla, bisogna in qualche caso isolarla dal contesto pericoloso e supportarla. Dopo la denuncia effettivamente deve attivarsi un percorso che sia più possibile rapido e più possibile efficace di protezione delle persone offese, di prevenzione e di punizione degli autori di questi reati. In segno di adesione alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, la facciata di Palazzo Lascaris si è illuminata di rosso per tre sere. Nelle vetrine dell'URP di via Arsenale sono anche esposti gli scatti dei volti noti che hanno sostenuto le campagne di sensibilizzazione. Guarda in faccia il tuo dolore e la mia doppia faccia a cura del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza due atti di indirizzo collegati alla seduta aperta che ha celebrato la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. L'ordine del giorno 692, prima firmataria Alessandra Biletta, Forza Italia, impegna la Giunta a monitorare affinché i fondi del Recovery Fund siano distribuiti con particolare attenzione all'occupazione femminile. L'ordine del giorno 693, prima firmataria Sara Zambaia, Lega, impegna il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente ad attivarsi presso il MIUR affinché nei programmi di educazione civica siano inseriti i progetti dedicati all'insegnamento del rispetto del prossimo e delle donne e alla prevenzione della violenza. E' ripreso in aula l'esame della proposta di legge sulla sicurezza nella pratica degli sport in montagna e l'attività di volo in montagna. L'Eliski sarà limitato ai sei comuni piemontesi con impianti di risalita attivi, Alagna, Formazza e Macunaga nel VCO, Sause Dulce, Cesana e Sestrier nel Torinese e a quelli in cui si praticava nel 2016 recuperando così anche Sause di Cesana. Sarà possibile anche nei giorni festivi ma alcuni di questi saranno riservati a chi fa sci alpinismo e va con le racchette da neve per rispettare tutte le esigenze. E' uno dei passaggi principali della proposta di legge sulla sicurezza nella pratica degli sport montani e l'attività di volo in montagna, illustrata dal relatore di maggioranza Walter Marin, Lega, in aula, dove è ripreso l'iter per l'approvazione del testo unificato delle due proposte di legge presentate da Lega e PD. E' una legge quadro che regolamenta di fatto in Piemonte tutto quello che è la disciplina degli sport invernali, aggiungendo alcuni sport che nella legge della 373 nazionale di fatti non c'era, che parla di Telemar, parla di Slittino, parla anche per quanto riguarda piste di fondo e poi entra in tutto quello che è il codice comportamentale dello sciatore, le responsabilità di chi gestisce la pista, la responsabilità dei comuni nell'autorizzare la pista. Il testo che adegua la normativa regionale vigente alla nuova legge nazionale ha visto un lungo e serrato confronto tra maggioranza e opposizioni ed è ora indirittura d'arrivo con una serie di modifiche sulle voci più dibattute, tra cui l'elischi. Prima si apriva in modo indiscriminato l'elischi su tutto l'arco alpino, invece adesso è stato reintrodotto il limite che avevamo già previsto noi all'elischi soltanto nei comuni dove attiva un impianto di risalita e quindi una situazione già compromessa. Abbiamo anche limitato l'utilizzo dell'elicottero per il recupero dei capi abbattuti, che prima era previsto in maniera indiscriminata, ora soltanto più per il cervo, o dell'elitaxi che prima era previsto per tutti e adesso soltanto più per il trasporto di sabi. L'esame del testo proseguirà nelle prossime sedute di aula. Prosegue il lavoro delle commissioni per esaminare ognuna per i propri ambiti di competenza il DEF, il documento di economia e finanza regionale 2022-2024. Circa 8 milioni di ristorni fiscali dei lavoratori trasfrontalieri piemontesi da utilizzare per opere pubbliche nei comuni di residenza dei lavoratori. La cifra è stata resa nota in terza commissione presieduta da Claudio Leone, dall'assessore all'emigrazione Maurizio Marrone, nell'ambito dell'illustrazione del documento di economia e finanza regionale 2022-2024, sul quale la commissione per i propri ambiti di competenza ha espresso a maggioranza parere consultivo favorevole. Il DEF 2022-2024 è stato licenziato a maggioranza anche dalla sesta commissione dopo l'illustrazione della relazione su sport e politiche giovanili dell'assessore Fabrizio Ricca. Per lo sport le risorse stanziate per il 2022 ammontano a 25,4 milioni di euro che saranno destinati a varie misure per la promozione e diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli e la valorizzazione del comparto turistico montano. Ai bandi e alle altre iniziative per l'attuazione delle politiche giovanili andranno 315 mila euro. Beni confiscati, la Giunta assicura bandi entro il 31 dicembre. La Regione Piemonte intende mantenere l'impegno preso nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e procedere entro la fine del 2021 alla pubblicazione del bando a sostegno dei comuni per il riutilizzo dei beni confiscati? E' questa la domanda che il consigliere Partito Democratico, Diego Sarno, ha posto alla Giunta regionale nell'ambito dei question time. Non solo la Giunta intende mantenere l'impegno pubblicando e predisponendo entro il 31 dicembre una delibera che preveda l'emanazione di appositi bandi per i comuni, ha specificato in una nota a firma del collega Maurizio Marrone, l'assessore Marco Gabusi. Ma abbiamo anche richiesto una variazione di bilancio che trasferisca le risorse riferite al 2021 pari a 300 mila euro sull'annualità 2022 in aggiunta a quelle già stanziate per l'anno prossimo pari a 150 mila euro. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!